Cazzo, Riccardo l'ha praticamente confessato. Hai una cazzo di prova, Bea? No, ma lo so. Ha ammazzato Pulca per scatenare una guerra e prendere il tuo busso. Guitati ora, putamierta, guitati! Nella messa siamo tutti fratelli. E Victor mi è più fratello di tutti gli altri. Come no? Mi fido di lui. Mi fai male. Ti sta fottendo. Cazzo, ma non lo capisci? Ha già parlato con tutti. Ha chiesto pure a quelli della 96. Spacciano per il quartiere. Provocano la gente. Ok. Grazie per essere venuti a parlarmi. Ma il capo sono io. E decido io. Tu resti al tuo posto. Chiaro? Tutto quello che sai dire. Non hai il cazzo, resta al posto tuo. Fate come cazzo vi pare. La misa è vostra, no? Io non ne voglio più sapere. No. 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 No.